Oggi abbiamo presentato la misura Resto al Sud messa da Invitalia, un'agenzia che per conto del Ministero dell'Economia si occupa di agevolare i giovani che vogliono fare impresa al Sud. È una misura dedicata a ragazzi di età tra i 18 e i 35 anni che non hanno attualmente un'impresa e che la possono costituire per partecipare a questo bando. Ed è un bando che permette l'accesso a 50.000 euro di fondi, il cui 35% sono a fondo per tutto. La restante parte viene dato come fondo da parte delle banche che fanno parte di questa misura. È un'iniziativa che dà larghissimo spazio all'innovazione e alla produzione, ma anche alle idee che possono nascere nel Sud Italia. Considerando il gap economico che c'è ancora nel Sud rispetto al Nord, con una situazione che è ancora rimasta a quella pre-crisi, credo sia una misura molto importante soprattutto per il territorio di Caltanissetta. Invitalia ha previsto una procedura molto semplice, tutta online. Diciamo che dal sito Invitalia c'è tutta la modulistica e tutte le informazioni necessarie per poter partecipare. Quindi oltre a poter contattare dei consulenti che possono aiutare nella stesura del bando attraverso la creazione dell'idea in sé per sé, ma tutta l'idea e la strategia di mercato che poi deve essere creata, si può fare tutto tramite il sito e anche il numero verde che è disponibile direttamente via internet. Quindi io vi invito a controllare il sito Invitalia e quindi dall'istesso è molto semplice la procedura, dove è stato previsto anche un'app per il cellulare che dà delle informazioni, ma permette anche di poter controllare la propria istanza e vedere a che stato di avanzamento si trova.